... Auguri di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Torniamo oggi ad occuparci di politica in senso stretto, lo facciamo con il deputato di Alternativa Libera, Massimo Artini, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera. Allora, partiamo un po' da quello che è il tema anche del nostro titolo. Eccolo qua, noi fuori dal Movimento, perché proprio oggi, insomma, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, ci sono nuove polemiche, sono piuttosto serrate per quanto riguarda una vera e propria rivolta contro Luigi Di Maio, almeno così titolano alcuni giornali. Tutto questo a partire da un nuovo capitolo del libro Supernova, ovvero come è stato ucciso il Movimento 5 Stelle, è uscito a firma di Nicola Biondo e Marco Canestrari, sta provocando numerose polemiche, soprattutto appunto interne al Movimento 5 Stelle, alla base di questa questione, almeno di questa nuova rivolta contro Di Maio, ci sarebbe il fatto appunto che, secondo Biondo e Canestrari, non è Grillo più a comandare oggi nel Movimento 5 Stelle, ma una sorta di trinità, ovvero Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio, in base a questo la rivolta di Roberto Fico sarebbe appunto per spodestare Luigi Di Maio. Quanto c'è di vero in questo? Senz'altro Roberto Fico nella sua modalità d'azione smentirà tutto in tutti i modi, però è anche vero che da almeno due anni a questa parte queste voci ci si rincorrono. Che dire, che ci sia qualcosa di diverso rispetto al Movimento 5 Stelle, l'abbiamo conosciuto noi, e me lo riportano gli stessi attivisti che incontriamo anche del Movimento 5 Stelle, che c'è qualcosa di completamente diverso. Si è voluto dare spazio alla parte più comunicativa e non alla parte di reale attività sul territorio e non solo, anche a livello nazionale, e questi sono risultati. Paradossalmente il Movimento 5 Stelle attualmente è più di plastica di Forza Italia come partito, perché, prendo un esempio, non è una valutazione fatta sull'opinione, il massacrante tam-tam per votare lo statuto, per arrivare a un quorum anche solamente elettronico, su 100.000 iscritti, sta a significare che un partito che è dato al 25% dai sondaggi non riesce a coagulare più di 25.000 persone su un blog, neanche portarle in un gazebo, fare un clic la sera a casa. Questo significherà qualcosa rispetto a quella della scollatura tra un mondo fittizio fatto da mille persone che fanno un sondaggio e un mondo reale fatto da una incessante richiesta da parte di tutti gli attivisti possibili, ma poi bisogna vedere anche se sono direttamente la Virginia Raggi, Roberto Fico, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, in vera e le mail, o se è un sistema automatizzato della Casa Leggio, perché tendenzialmente funziona anche in questa maniera. Quindi questa realtà via via si sta sgretolando anche di fronte alle persone, perché è così? L'attività sui territori langue, i deputati sui territori languono e non accettano nessun tipo di confronto con nessuno, né delle forze in maggioranza né con altre forze come per esempio la nostra. Perché? Perché l'importante è mantenere quella modalità d'azione che la Casa Leggio insegna da almeno 6-7 anni, che è non confrontarsi con nessuno, perché il motto era se parli con un imbecille, poi ci sta che tu possa risultare un imbecille anche te, il problema è che spesso e volentieri ora non parlano con le altre persone, perché in ogni caso sarebbero loro che potrebbero essere attacciati di… Una domanda, ma cos'è allora secondo lei che le accuse vengono mosse in modo particolare a Di Maio, anche sulla gestione degli enti locali, visto che lui è rappresentante, su quelle sono state le ultime questioni, le mail appunto. Di Maio, Luigi è una persona pavida, né più né meno, ma non solamente ora in questi ultimi passaggi, da sempre, io mi ricordo espressamente, lo dico così rimane tra virgolette agli atti, durante la discussione sulla legge elettorale con Renzi, nei giorni prima in cui dovesse avviare quella cosa, io chiesi direttamente a Luigi di non farlo, perché il suo ruolo istituzionale non lo permetteva. In quanto vicepresidente. In quanto vicepresidente, c'erano dei ruoli legittimati, ovvero Brescia e il capogruppo al Senato, non ricordo ci saranno perché, comunque il capogruppo Brescia che era legittimato a fare questo passaggio, ma ovviamente c'era un percorso mediatico da dover creare, nei confronti di quella persona, persona che alla luce dei fatti, in una normalissima azienda, non dico in una grande azienda, in una normalissima azienda, un dirigente o comunque un funzionario che non riesce a comprendere una mail che gli viene inviata, è un funzionario che viene fatto da parte di un titolare. Quindi, diciamo, la costruzione mediatica di questa persona è finalizzata a quel tipo di passaggio e questo crea malumori, fa piacere che Fico si accorga che il Movimento 5 Stelle non è più quello di una volta, non capisco cosa stia facendo per mantenerlo e perché Fico ne parli. Fico, capiamoci, è uno che non ha mai preso più dell'1% come voti, quindi la sua capacità di saper creare consenso è pari a nulla e anche questi sono fatti. Lui ha fatto due elezioni regionali, una elezione regionale e una elezione comunale nel 2010 e nel 2011, prendendo l'1% nel 2010 e l'1,1% nel 2011, quindi cifre da prefisso internazionale, mettiamola così. Quando noi in Toscana avevamo, lo dico perché è innegabile, almeno 10 volte le percentuali di voto, lo stesso vale nella tanto vituperata Emilia Romagna di Pizzarotti. Te dai in mano la gente che non ha capacità e poi i risultati sono questi. Senta, una domanda perché in realtà a parte parlare di Pizzarotti, voglio chiedere subito questa cosa, pochi giorni fa ha ratificato la sua uscita ufficiale al Movimento 5 Stelle, sarà quindi uno, entrerà in alternativa libera? Non l'ho detto più volte, non è quello il punto, ma non ha neanche senso in questo passaggio. Io ritengo che Pizzarotti abbia da fare un lavoro su Parma, che è quello di far vedere che il Movimento 5 Stelle era un contenitore e non il fine della politica. Un contenitore di un senso civico, di un modo di fare amministrazione in maniera diversa sui comuni. Lui l'ha dimostrato a Parma, riduzione della metà del debito, lei va a Parma, ora mi informavo ultimamente sugli ultimi passaggi amministrativi, l'ultimo passaggio è la modifica di tutti i lampioni con lampade a LED con un immediato ritorno economico per il comune. Quindi c'è una capacità amministrativa che si sostanzia nei fatti. Vedi Parma e vedi altre realtà, comunque governate dal 5 Stelle, non prendo Roma perché sarebbe troppo facile lavorare su Roma, però se io ragiono anche per esempio su Torino, alcune scelte, perché ne so, sull'acqua pubblica ripercorrono un percorso del Partito Democratico e non di certo di quella forza politica che voleva fare un'altra scelta sull'acqua. Però Pizzarotti è un vostro potenziale alleato? Pizzarotti è una persona con cui ci si può tranquillamente parlare, è una persona che è sempre stato disposto a parlare con le persone che hanno volontà di fare veramente qualcosa per cambiare questo Paese. Noi siamo fra queste, è un percorso effettivamente difficile, ma siamo in una fase costituente, abbiamo raggiunto, l'altra volta ci vedremmo, eravamo nella fase iniziale, noi abbiamo raggiunto al momento 16 regioni come copertura e oltre 50 associazioni, conto per la Costituente dovrebbe tenersi a metà giugno e gennaio di avere almeno un centinaio di associazioni. Tra poco ne parleremo, ora mi dispiace, rimango un attimo su Movimento 5 Stelle, ma è un tema interessante anche perché, volevo capire questo, c'è stata la questione Taverna-Raggia-Roma, c'è stata la questione appunto venuta fuori oggi, ma non è una cosa di oggi, tra Fico e Di Maio, qualcuno ha detto che nel Movimento 5 Stelle si è anche alla resa dei conti tra le forze interne di destra e quelle di sinistra, oggi il Movimento 5 Stelle è più di destra o più di sinistra? Non che non ci sia l'ideologia, è che è utile al momento in cui c'è da fare un'operazione tipicamente mediatica, cioè se te avessi una concezione di politica di destra o di sinistra la esprimeresti in un lavoro politico, il lavoro politico attuale del Movimento 5 Stelle, a parte per alcuni colleghi che hanno indubbiamente una qualità, ma a cui non viene dato risalto, diciamo mediaticamente risponde esclusivamente a quel gioco di comunicazione che è l'immediata risposta alla comunicazione immediata del Presidente del Consiglio, cioè è il naturale contraltare mediatico della mediaticità del Presidente Renzi. Sentivo ieri le dichiarazioni sulla legge di bilancio, le solite dichiarazioni da 4 anni perché è il contraltare naturale a un'operazione fatta. Come era Berlusconi per un partito demoralio primo. Esattamente, sentire le dichiarazioni di Brunetta o di Salvini o di 5 Stelle che poi non entrano mai nel merito, ma questo governo non ha fatto, è plausibile, sta legge di bilancio immagino un mondo fantastico, però ancora non ci sa né il testo di legge né altro, c'è solo la presentazione del Presidente del Consiglio, quindi anche aspettare a leggere cosa effettivamente c'è scritto per dare una valutazione. Solitamente, io mi ricordo quella dell'anno scorso fatta con alternativa libera, era abbastanza imbarazzante, non credo che quest'anno abbiano fatto di meglio. Lei si riserva sulla posizione contraria, però dice prima leggiamo la legge. Ma questo è sempre stato un po' il ragionamento fatto in questi tre anni, ma sempre così, perché non ha senso, altrimenti l'unica cosa che fai è uscire su un comunicato, una nota stampa o un'agenzia. Senta, volevo domandarle per quanto riguarda la figura di Grillo, perché lui aveva fatto il famoso, il mai celebre passo di lato, poi insomma il passo di lato l'ha rifatto per ritornare in pole position in qualche modo, come mai secondo lei? Allora, potrebbe essere un po' un gioco delle parti, però è anche vero che nella creazione di un direttorio, io peraltro ho steggiato anche da esterno, diciamo così, ma la volontà di Grillo di farsi da parte era la possibilità, anche lontanissima, di un qualcosa di diverso. Riportarsi in casa tutta la parte di decisione politica, definendo un capo politico, cioè un qualcosa che è proprio contrarre ai principi del Movimento 5 Stelle, cioè la definizione di un capo. Questa trasformazione è stata necessaria perché questa cosa che non ha un'organizzazione, non ha una voglia di creare una classe di dirigenti, ma non che siano dirigenti nel modo in cui l'ha formato il Partito Democratico, ma persone competenti che sappiano amministrare. Non è stato fatto questo passaggio, su Roma si è visto completamente la totale assenza di classe politica per gestire un comune come Roma. Grillo è ritornato perché la situazione era quantomeno imbarazzante, non che Beppe avesse probabilmente la voglia di fare questo passaggio e tra virgolette anche politicamente la capacità. è stato obbligato, credo proprio di sì. Anche da voce quella di Roberto Fico che è innegabile, ha un percorso storico con il Movimento 5 Stelle, anche di rapporti, anche di conoscenza di quello che c'è dietro al Movimento 5 Stelle e non può permettersi di non essere ascoltato. Senta, e per quanto riguarda invece la perdita di un altro, forse il più grande nome tutelare, almeno per quanto riguarda la filosofia del Movimento 5 Stelle, Dario Fo, insieme alla morte di casa legge, che cosa succede? Quella al netto del dolore per la persona. Io sono rimasto molto colpito anche perché sono rimasto indubbiamente attivo al netto degli ultimi giorni di vita, ma per il Movimento era una, come mi ha scritto una giovane attivista, sempre meno Dario Fo e sempre più follower e youtubers. È un problema perché Roma è un esempio di di mancata capacità di recepire dalla buona, come dire, da quel buon tessuto di società civile, di recepire esperti, persone di cultura, insomma persone che fanno la differenza perché hanno veramente un'esperienza e una storia in determinati settori. Dario Forni era un esempio, ne cito veramente poche ore. Non voglio fare battute su questo perché il rispetto per Fo è troppo elevato, però effettivamente se si toglie Dario Fo, da un punto di vista culturale, si ha ben poco che si riconosce in questo movimento e gli dà una sponda anche politica. Senta, per quanto riguarda Roma, perché prima l'ha citata un paio di volte, insomma lì molti dicono che di fatto c'è una sorta di complotto per non far governare la Raggi o per mettergli bastoni tra le volte quando è ancora presto. Ora in realtà dei giorni ne sono passati tanti dall'elezione, però anche gli stessi assessori che vanno, vengono desiderando le dimissioni, nessuno vuole governare Roma, è questo? Allora, per come la vedo io, io mi ero ripromesso di non fare commenti fino a tre mesi dall'elezione come sindaco, ne è passati quasi cinque, posso permettermi di iniziare a fare qualche tipo di commento. Vivendo Roma e vivendola con la volontà di viverla nei trasporti pubblici, nella quotidianità, io tendenzialmente mi sposto o con mezzi pubblici o con car sharing, diciamo così, ti accorgi che negli ultimi cinque mesi Roma è rimasta in un limbo, in un limbo perché te non hai avuto nessun tipo di capacità amministrativa e il fatto che comunque ci siano delle forti frizioni dentro l'amministrazione, è anche dovuto a un certo tipo di approccio del sindaco che, come dire, non ha saputo gestire la situazione che aveva, perché te non ti puoi trovare a avere, il capo ragioniere si dimette, l'amministratore di Ama che si dimette, l'amministratore d'assessore di bilancio, le storie che sussurrano sul secondo assessore, su De Dominici sono imbarazzanti e non le racconto in televisione, sarebbe un gossip inutile, ma tutti i passaggi sono veramente… ragioniamo su una cosa, te sei dovuto arrivare a mettere un colomban alle partecipate, creando un assessorato ad hoc, una persona che minimo, minimo, ha un minimo di conflitti interessi, essendo portatore di una rete di imprese, primo, secondo, te vai a mettere una persona fortemente convinta delle privatizzazioni in una società come Acea per esempio, che viene controllata dall'assessore, che ha in Toscana, solo in Toscana, partecipazioni in Asa, in Publiacqua, in Noveacque, prende, è quella che sulle sue bollette prende circa il 50% degli utili e quest'anno solo su Publiacqua erano un qualcosa come 18 milioni di Euro. Ora, la sindaco e l'assessore hanno la volontà di saperci dire se dal prossimo anno rinunciano a quegli utili nell'ottica di avere una visione pubblica dell'acqua, così come il Movimento 5 Stelle che ho conosciuto io ha sempre voluto fare, perché quello è un passaggio di rimente, te lì la politica la fai, non è solamente gestire un'azienda, lì fai politica dicendo esco da queste realtà oppure le quote, i dividenti non li escuto, non li prendo, quindi è indubbiamente… Certo, una scelta anche, come dire, di politica, no? Insomma, se a noi toscani, se a noi fiorentini ci risparmiassimo 9-10 milioni di Euro di dividenti e li rimettessimo a, che ne so, rifare l'ungarno-torigiani… Investimenti, diciamo. Senta, volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il suo Movimento Alternativa Libera, perché a Sesto Fiorentino, dove si è votato, è stato eletto Lorenzo Falchi, poi di sinistra italiana, però c'era anche un candidato appoggiato anche da voi, Maurizio Percioli, insieme lì a liste di possibili edici vati e rifondazione comunista, anche se non sbaglio. È questo più o meno il vostro quadro di riferimento? Sinceramente, con Possibile c'è un lavoro molto più stringente, anche parlamentare e anche su altri territori e l'idea nostra, diciamo, come Alternativa Libera è quella di creare un percorso per cui si abbia una capacità di costruire programmi che siano nei più possibili vicini, non tanto di fare delle fusioni a freddo. L'idea è costruire e avere anche, come dire, bacini di elettorato, non dico diversi, ma insomma che abbiano delle affinità, ma che ci diano possibilità di ampliare questo bacino, lo stesso ragionamento fatto con Pizzarotti. Per cui è successo, nella volontà di lavorare con delle realtà civiche, di parlare con tutta una serie di esponenti, a seconda dei territori, perché questo era un po' lo spirito anche che ci poneva il Movimento 5 Stelle. La concretezza che noi cerchiamo di esprimere, non solamente nell'azione di indagine, ma anche nell'azione di proposta, è quella che differenzia, almeno per quello che è la nostra visione, alternativa libera. Cioè la capacità di essere concreti. Le attività sul territorio fatte in quest'ultimo periodo hanno portato frutti. Io penso al ragionamento sull'aeroporto, Sesto Ferentino ne è direttamente implicata, ma anche sull'inceneritore sono battaglie che non guardano alla filosofia, ma guardano al concreto. Già in campagna elettorale, ma ultimamente con gli ultimi esposti, come alternativa libera abbiamo recuperato informazioni che nessun altro aveva, che hanno portato, penso quadrifoglio, a fare delle dichiarazioni su quello che saranno i costi effettivi del conferimento nell'inceneritore e lo stesso vale per l'aeroporto. Anche lì avete presentato un esposto. Abbiamo presentato tre esposti per la verità. L'ultimo in particolare riguarda, se mi posso permettere, il rischio. Il rischio che insiste nei sedimi vicino all'aeroporto, quindi i terzi che risiedono o lavorano intorno all'aeroporto e coloro che utilizzano gli aerei perché c'è una pericolosità di vicinanza di strutture che sono connaturate con quell'area. Allora, tra poi se non ne parleremo, ripartiremo proprio da questo, tra cinque minuti, lo faremo ovviamente con Massimo Martini di Alternativa Libra, quindi insomma cinque minuti telegiornale e poi torniamo in studio. Restate con noi. Grazie. Ben tornati in studio, siamo con Massimo Martini, deputato di Alternativa Libra. Parlavamo prima della pausa dell'aeroporto di Firenze, un esposto presentato appunto su quelle che sono sostanzialmente le strutture di vicinato, quello che sta intorno all'aeroporto, che avrebbero dei problemi, delle ricadute se l'aeroporto venisse costruito. Esattamente. Peretolo venisse ampliato. In particolare si fa riferimento a, partiamo in ordine, il polo universitario, la caserma sott'ufficiali che è nella situazione più critica e il casello autostradale di Firenze della 11, esattamente. E da considerare il possibile stadio nuovo, la cittadella Viola, che insisterebbe in area B dove non sarebbe possibile costruire. Quindi la domanda da porre anche al sindaco di Firenze è scegli quale delle due, perché o fai l'aeroporto o fai la cittadella. E non so se ai fiorentini di fede Viola questo tipo di passaggio potrebbe essere dirimente oppure no. Mi spiego. C'è un punto particolare. L'aeroporto porta un investimento solo in quell'area per rifare l'aeroporto, per costruire nuovi laghi, quindi portano anche ulteriori pericolosità per i volatili, ma porta un investimento di quasi 700 milioni di Euro. Unito all'inceneritore si tratta di quasi un miliardo di Euro. Ora, queste due scelte hanno senso oppure per la Toscana, e parlo anche dal Presidente della Regione Rossi, è più conveniente questo miliardo spenderlo da un altro? Io non dico di non investirlo, ma investirlo in due chilometri per tre chilometri non ha senso quando abbiamo una direttrice per Pisa che fornisce servizi a cittadini di Pisa, Pontedera, Empoli e Firenze, che è ancora agli anni di inizio secolo. Allora, te potresti sviluppare un progetto di alta velocità, o comunque di velocità massimizzata sulla linea Firenze-Pisa e avere, come tutti gli aeroporti del mondo, l'aeroporto internazionale e intercontinentale, perché Pisa lo supporta, neanche mezz'ora di treno. Senza bisogno di dover fare Firenze. Senza bisogno di dover fare Firenze e portando benefici a quasi 3 milioni di persone, che è una cosa ben diversa, che portare benefici solamente ai fiorentini e poi tutto da vedersi, perché poi c'è tutto un impatto, e nell'esposto è ben chiaro, di venti e di come l'aeroporto verrà costruito. E questo è un'osservazione alla via, no? Ovviamente deve ancora essere successo. Esattamente. Tra l'altro parlava della Piana, parlava della zona più o meno dello Smannoro, quella dove dovrebbe sorgere anche il termovalorizzatore, su questo anche, insomma, vuol dire voi, il vostro candidato a Sesto Ferrettino, ma non soltanto anche con quelli a Firenze e così, fate una battaglia. Un paio di giorni fa si è espresso Nardè, la propria domanda specifica. Sentiamo. Io non amo i termovalorizzatori, però odio di più le discariche e se vedo nel mio paese cosa succede quando ci sono le discariche, vedo che il business dei rifiuti finisce sempre in mano alla malavita, all'andrangheta, alla camorra, alla mafia. Per questo noi abbiamo bisogno invece di impianti moderni, tecnologicamente avanzati e avremo la massima attenzione, lo dico da sindaco e di padre di tre bambini, la massima attenzione per tutto quello che riguarda l'impatto sia sulla salute che sull'ambiente. Soprattutto guarderemo le belle esperienze, buone esperienze che sono nelle altre regioni d'Italia, nel nord o anche negli altri paesi europei. Allora Artiri, vorrei rispondere lei al Nardè. Sì, non è un discorso di, parafrasando Benigni che si è spostato più dalla parte, non è un discorso di amarli o non amarli, non è che c'è da fidanzarsi o l'inceneritore, il concetto è un altro, il concetto è sempre concretamente quanto ci costa e che benefici porta. Nessuno ha chiesto di fare un'altra discarica, quella è la nostra proposta, è un modo diverso di trattare rifiuti, che non vuol dire ad esempio c'è qui vicino Faltona che ha un impianto di compostaggio e ne più nemmeno comporta per le nostre bollette dei rifiuti un costo di trasporto di quasi 5-6 milioni di Euro l'anno per niente, perché i rifiuti che vengono da Firenze sono mal gestiti, arrivano a Faltona, escono per l'85% come prodotto non valido e tornano in discarica, quindi noi paghiamo un viaggio inutile. Allora questo è il concetto, il concetto è la gestione dei rifiuti può essere fatta in maniera diversa, prendo ad esempio Pizzarotti, 75% desdifferenziata in nemmeno 4 anni, ci sarà un motivo per cui un comune arriva a fare questo tipo di lavoro e fa spendere meno i cittadini e contemporaneamente tutela l'ambiente, perché in qualsiasi caso l'incenerimento è un sistema che genera un prodotto di risulto dalla combustione che pareva essere in qualche modo smaltito. Non solo, poi crei delle ceneri che sono ancora più pericolose e costose. Io nel calcolo che ho fatto durante le lezioni amministrative, lo feci proprio personalmente, il costo dello smaltimento delle ceneri è un qualcosa come costa 90 euro a tonnellata il prodotto normale e 220 euro a tonnellata la cenere, quindi la produzione è circa un terzo di quello che viene bruciato, perché io brucio e un terzo rimane cenere, lo smaltimento di quello mi costa. Non ci sarebbe poi il guadagno. È tutto lì uno dei concetti, oltre alla parte di salute che è imprescindibile, te hai un modo di trattare i rifiuti che serve solamente a fare una cosa, mantenere un ciclo di rifiuti che è il miglior business che esista ad oggi, perché è garantito, è garantito dalle bollette che aumentano all'aumentare dei costi, costruire un inceneritore che costerà 220 milioni è un'offesa all'intelligenza di chi paga la bolletta. Va bene, volevo riportare un attimo sui temi nazionali per chiedere un paio di questioni, il primo perché è uscito un dato che riguarda soltanto il mese di agosto, però dove il Medina è cresciuto dell'11,4%, cioè l'export sostanzialmente, un surplus commerciale che sale a 2,5 miliardi e sono numeri che fanno piacere, ovviamente è una congiuntura del momento secondo lei o c'è un trend in questo? Questo ce lo diranno i dati di settembre, comunque bisognerebbe anche vedere non solamente le percentuali di relazione, ma i termini assoluti, io vorrei sapere in termini assoluti rispetto al 2008 a che punto siamo, la crisi è iniziale, la comparazione, perché poi dopo certo se l'anno scorso abbiamo fatto valori indegni e quest'anno andiamo subito dell'11%, dipende vale il punto di partenza, quindi non è tanto la percentuale che per carità mi rallegra, poteva essere peggio, ma non si può vivere di poteva essere meglio o peggio, quello che mi preoccupa a me è il voler fare, come ha fatto il Presidente del Consiglio, una esposizione su Industria 4.0, che a questo punto mettiamoci anche 4.1, anche le sottoversioni e le build, appunto, se poi non lo concretizzi nella realtà di dare ad esempio alle imprese la capacità di saper si concentrare su determinati aspetti di produzione che sono il futuro, le porto un esempio, io sono il primo, non solo firmatario, ma presentatore in Italia di un progetto di legge di riforma della governance statale della cyber e della cyber security e che contemporaneamente integra un discorso industriale sulla cyber security, per comprendere la sicurezza cibernetica, ovvero l'informatica, credo che possa essere considerata al pari dell'aeronautica negli anni 30, cioè un settore strategico e indubbiamente non solo strategico perché mantiene una capacità di sovranità italiana, ma soprattutto perché di qui ai prossimi 30 anni saremo ulteriormente computerizzati rispetto a questa e l'attuale situazione, per i telespettatori basta immaginarsi 5 anni fa cos'era il nostro telefonino e cosa è oggi un telefonino. Questo settore al momento langue in commissione, io spero di riuscire a calendarizzarla di qui nei prossimi mesi, prima del referendum, siamo in par condicio, non dobbiamo parlare. Vabbè, basta non dare dire azione di voto, il 4 dicembre si vota, questo ormai si sappia. No, no, sto zitto. Quindi, è un settore su cui bisogna puntare. È un settore dove si deve puntare. C'è una pavidità da parte del Partito Democratico di affrontare questa cosa, vuoi anche per colpa del Presidente del Consiglio che ci ha messo sopra il carico dell'amico, diciamo così, ma che mi fa spavento, te non puoi bloccare un paese perché la tua pavidità non ti porta a mettere in campo azioni che prescindono dalla forza politica che le porta avanti. Pavidità dice perché avrebbe a implicare sulla privacy queste meraviglie? No, perché poi, diciamo così, potrebbe essere pericoloso pensare che non lo faccia apposta per mettere l'amico a capo di una certa struttura. In realtà questo paese ne ha bisogno, ne ha bisogno perché abbiamo tutta una serie di potenzialità, ma parlo di questa come la parte spaziale, cioè io ritengo che questo paese abbia le potenzialità come cultura anche universitaria e competenza per essere leader nel mondo in molti settori. Io parlo per il mondo della difesa, ma noi siamo veramente capaci di saper fare formazione e di sapere esportare prodotti che altri non sanno esportare. i dati riportati non sono nemmeno così errati. Noi dobbiamo avere il coraggio di poter mettere a disposizione certi tipi di fondi, ma le porto solo un esempio per darle l'ultimo. Per darle il perché c'è questa pavidità. Nel resto del mondo sulla sicurezza cibernetica i governi mettono mediamente oltre il miliardo e mezzo di euro. Non parliamo degli Stati Uniti, ce ne hanno messi 200 di miliardi di euro, che è un'altra cosa, ma io prendo i nostri omologhi francesi, britannici, si va dai 2 miliardi e mezzo al miliardo e mezzo. Noi l'anno scorso ci si è messo 150 milioni di euro, finanziati 40 e quest'anno doveva partire lo spunto per dare lo spazio a maggiori investimenti e non se ne vede l'ombra. Questo paese c'è da comprendere il tipo di futuro vuole. Devo chiederle tre cose velocissime, però sono cose molto importanti. La prima riguarda Mosul, perché oggi di fatto è partita l'offensiva per quella che è considerata la capitale dell'ISIS. Iraq è la capitale dell'ISIS, in Iraq Mosul è stata la conquista maggiore, anche perché io ero in Iraq alla fine di settembre, siamo andati insieme a una collega a vedere la missione a Erbil e poi ci siamo trovati anche nelle vicinanze di Mosul. La situazione è molto volatile, ci siamo ritrovati in un'allarme autobomba anche noi, però decisamente gestibile. E questo passaggio su Mosul è di rimente. L'aver sfiancato ISIS non con bombardamenti a tappeto, ma con bombardamenti sempre minori e con l'uso delle forze militari locali, peshmerga e kurdi, kurdi e iracheni, ha fatto sì che questa cosa fosse gestita meglio e che la popolazione sunnita dentro Mosul, questo addetta di quasi tutte le forze in campo, sia del governo kurdo, sia della parte irachena, sia della parte cristiana, ho avuto l'opportunità di vedere il vescovo cristiano, cattolico di Erbil. In quella realtà questo passaggio fatto di terra, fatto con forze interne, sta facendo la differenza. Le dicevo, i residenti di Mosul rimasti dentro la città sunniti, che avrebbero lo stesso filone salafita dell'ISIS, anche loro si sono accorti che questi ne più ne meno sono dei macellai. E quindi arrivare lì porta due cose, il fatto è che probabilmente non ci sarà una recrudescenza successiva a questo passaggio e bisogna evitare il problema di Falluja, cioè che gli sciiti vadano a creare gli problemi che qualche mese fa si sono creati. Ma l'altro problema, e l'ho già affrontato anche in Parlamento, è già stato approvato dal Parlamento su una richiesta di risoluzione mia, è affrontare il problema degli sfollati. La considerazione che si è fatta in quei giorni è che ci potesse essere una media del mezzo milione al milione e mezzo di sfollati da Mosul che si sarebbero spostati verso Erbil. Quindi l'impegno che ho fatto riportare all'Europa e che dovrebbe essere fatto anche dall'Italia è quello di gestire o comunque supportare il governo kurdo e iracheno lì. Perché immaginatevi cosa vorrebbe dire non farlo e ritrovarsi un altro milione e mezzo di sfollati sulle coste della Libia. Sarebbe un errore già compiuto in passato. E sarebbe un costo enorme, sapendolo io, avendo avuto la fortuna di avere ottimi rapporti con l'ambasciatore iracheno qui a Roma, questo passaggio è stato fatto precedentemente, visto lì e alla prima occasione fatta in Parlamento, prima dell'azione su Mosul. Un'altra questione riguarda invece la cronaca proprio di questi giorni, perché qualche giorno fa l'annuncio del Ministro della Difesa Pinotti sul fatto che schiereremo alcuni soldati italiani in Lettonia, al confine con la Russia, cosa sta succedendo lì? Il punto è molto semplice, noi facciamo parte dell'Alleanza Nato, questo passaggio era previsto dal 2014, io ho fatto un'interrogazione a inizio 2015, proprio perché volevo comprendere qual è la situazione e il passaggio, si sta parlando di una forza, le VJTF, sono Very Joint Task Force, che sono forse intervento rapido, cioè forse in 3 giorni, 3 mila uomini in 3 giorni si trovano dislocate ai confini con la Russia. Io ho fatto la mia azione politica nel 2015, ho chiesto supporto ad altri per fare una risoluzione che cambiasse questo, è più comodo nella parte comunicativa, e parlo del Movimento 5 Stelle, arrivare a cose fatte ma non cambiare niente, che lavorare prima, per evitare questo passaggio. La segnalazione che feci anche in aula, in un'interpellanza sotto segretario Alfano fu, siamo sicuri che questo è un sistema che ci permette di avere una situazione di tranquillità con la Russia? Noi abbiamo vari fronti che ci espongono, questo, quello in Turchia, con l'Active Fence, cioè abbiamo 2-3 situazioni di, come dire, non solamente l'Italia, il Canada, il Belgio, i paesi che fanno parte della Nato, ma noi in particolare siamo in una situazione che, diciamo così, potrebbe fare la differenza se uno facesse scelte diverse e non adottasse per il sicuramente quello che gli viene chiesto a livello Nato. Parlo per l'Active Fence in Turchia, che è un dispositivo antimissile che è in chiave antirussa, lo stesso vale per questa cosa. Non mi preoccuperei, è un gioco delle parti che a mio modo di vedere serve a creare solo tensione e aumentare spese militari da noi e da loro, però è un punto di rischio non indifferente. Va bene, vedremo, intanto io abbiamo concluso il nostro tempo, ringrazio Massimo Martini per essere stato a noi, grazie a voi per averci seguito da casa, Telegram termina qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti.